Il cronometro è là dietro subito Giacometti, Marco Pippa che c'è dei 35 e 56, Giacometti, Giacometti, Marco Pippa che c'è dei 35 e 57, Giacometti, Marco Pippa che c'è dei 35 e 56, Giacometti, 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 Giacomet L'ultimo mio, Marco Pippa 2, 188, e cominciamo al treguardo, Marco Pippa 3, 53, 30, ci accometti 3, 51, 0, 3, 3, 2, 4, 9, 8, 7, l'ordine del tabuolo